Ah beh gente, sono Larus e qui su ROM 2 Total War con i nostri Siracusani Nell'ultima puntata abbiamo preso Turi Dopo una battaglia non troppo difficile, comunque un po' impegnativa Ho dovuto fare un paio di tattiche interessanti E adesso siamo in guerra con i Sanniti Adesso volevo un attimo prendermi sempre un po' di pausa e ristabilire tutta l'economia e tutto quanto Devo oltretutto fare nuovi edifici militari Tipo tutta Messina, che Messina sarà la mia città militare per eccellenza E ho tolto tutti gli edifici militari da Siracusa Che Siracusa sarà la capitale Quindi voglio agorà, voglio edifici sanitari, voglio teatri, voglio un buon porto E devo fare un paio di cose Comunque, intanto che possiamo mandare in giro il nostro campione Lo manderò nell'esercito dei compagni di Cerbero Che mi servirà un po' lì E oltretutto, devo controllare un paio di cose qui Sì, qua ce la stiamo cavando abbastanza bene Ci sono un po' di ribelli A quanto pare qui Dobbiamo fare attenzione E attacchiamo subito Ribelli latini, dai andiamo Ok Abbiamo la paura di Phobos L'esercito di Guarnigione La flotta e la flotta di Guarnigione Non dovrebbe essere una battaglia troppo difficile È una battaglia costiera Battaglia di Alalia del 216 avanti Cristo E no, non dovrebbe essere per niente una battaglia difficile Ho il supporto della flotta Non la voglio far sbarcare E comunque, quello che voglio fare con la flotta È semplicemente bombardare Il nemico con le mie navi d'artiglieria E per questo vorrò combattere Più vicino possibile al mare Se è il nemico combatterei più lontano possibile dal mare Dipende tutto come vuole fare Però siccome io dovrei avere anche la superiorità di Giavellotti Forse riesco a farli anche un po' di male Devo fare attenzione però Ha della cavalleria E quella cavalleria potrebbe anche farli un po' di male Però per fortuna c'è l'esercito di Guarnigione Che potrebbe supplire le mie carenze di opliti Di lanceri in generale Probabilmente dovrei anche avere qualche unità di frombolieri O di Giavellottisti in più Devo vedere un po' come se la cava Magari la fatta di Guarnigione la potrò utilizzare per sbarcare alle spalle del mico Siccome la Guarnigione non mi serve assolutamente a nulla Però devo vedere un po' che cosa fare Non è una battaglia difficile Però comunque è una di quelle battaglie che non vorresti avere così tante perdite Io vorrei combattere senza nebbia Però a quanto pare in Corsica c'è solo nebbia Un po' di asciutto Molto bene Posizionerò più possibile vicino alla costa Però a quanto pare il nemico è già posizionato l'esercito così Possiamo vedere questa qua è la formazione tipica romana Della legione Ovviamente non riesce Non ci sono i lanceri posizionati dietro E gli spacciani posizionati davanti Diciamo una formazione di legione romana invertita Vediamo un po' come vuole fare Io anzitutto preferisco posizionare l'esercito un po' più indietro E tenere le mie picche Sì tutto quanto indietro Magari un po' più larghe le picche questa volta Perché la legione romana Intanto io ho posizionato le truppe e ve lo spiego Ha sempre un difetto E il difetto è che è troppo compatta Va bene per sfondare Va bene anche per tenere vivo il combattimento Farlo prolungare un bel po' Ma il suo difetto più grande È che è troppo compatta E la cavalleria qui ovviamente gioca a loro vantaggio La cavalleria è ottima per la legione romana Che comunque dà molta flessibilità E impedisce eventuali accerchiamenti Però se la cavalleria viene sorpassata di numero O anche di qualità Il nemico rimane senza nulla Per esempio io potrei andare in formazione molto allargata E a cercarlo tutto con i picchieri E poi dopo a cercare il nemico con solo unità di picchieri Può fare molto male L'unica cosa è che qua ha un po' di cavalleria Infatti credo che qui entreranno in gioco I miei opliti cittadini E i miei opliti miliziani Intanto voglio creare due file Una di frombolieri E una di opliti Quella di opliti La voglio farla un po' al lato Due opliti miliziani qui E un E un oplita cittadina Cittadino è un oplita normale Sull'altro fianco Così voglio ingaggiare uno scontro con la cavalleria E se non ingaggiarlo Comunque voglio sempre tenere un po' a distanza La cavalleria nemica E invece con la folla Folla solo per fare un po' di peso Dovevo fare attenzione però alla folla Che è un Quasi un'arma a doppio taglio Perché siccome Ovviamente l'unità Più debole del gioco Inutile dirlo Però siccome hanno il problema Che si ritirano abbastanza in fretta Potrebbe fare un effetto domino Sulle altre unità E fidatevi non è una buona cosa Tanto A me Tutte quante unità qua sono a posto Non riesco a capire però quali sono unità Che facciano parte del mio esercito Fin da subito E quali si sono aggiunti Non importa Utilizzerò tutte le navi indifferentemente Ora Ho bisogno di Particolare dell'artiglieria Che devo tentare di spostare il nemico Più vicino alla costa E intanto con Mi dispiace utilizzare questa pentere con arcieri E intanto con le altre navi Mi sa che dovrò stare Un po' tranquillo Non fare un gran che Intanto Muggiamo un po' il tempo E così riusciamo A ricreare I due eserciti Ovviamente Inutile dire che Sfrutterò il vantaggio Del tiro Quindi Utilizzerò I miei Ciavellottisti I miei Frombolieri Per tirare sul nemico Prima di entrare nel corpo a corpo Probabilmente Io voglio tenere Questi Questi due reggimenti di opliti Un po' distanti Dalla formazione Voglio proprio creare Una sorta di Di ampio Di ampia Barriera Attorno In modo che così La cavalderia Si senta un po' soffocata Voglio vedere un po' Che cosa fare Quindi Ecco La mia formazione È formata Principalmente da Opliti dietro E poi dopo Qui abbiamo tutto il resto Del mio esercito Quindi Iniziamo a muoverci Un po' Dire che così può bastare Invece Le mie unità Che dovrò fare Due formazioni a parte Una Manderò qui E l'altra La manderò qui Vediamo un po' Come si evolve La situazione Voglio camminare Non voglio Stanchare troppo Le milità E oltretutto Le mie navi Non riescono a sparare Purtroppo Effettivamente Dovrò lasciare Perdite Perdite Non riesco a parlare Oggi Dovrò lasciare Perdere Il vantaggio Dell'artiglieria navale Perché effettivamente Non posso E giustamente Non si vorrà mai Schiodare Da questa posizione In pianura Abbastanza buona Comunque Vediamo un po' Ah Magari i miei picchieri Possono anche Togliere la formazione Ma Non è che È di così grande importanza Mi piace come avanzano I picchieri Per informazione Fanno paura Teoria dovrebbero stare Molto più compatti E lo so E questa è un'eccezione Però comunque Vista la situazione Mi piace però Questi qua come Tengono alte le picche indietro Sembra quasi Non possono abbassarle un po' Tipo Una cosa che non mi è mai Piaciuta di rom 2 E anche Del primo rom È il fatto che Le formazioni In particolare Le picche Non Di numero Non sono Completamente esatte Tipo Su rom 2 E su rom 1 Anche Almeno Adesso non mi ricordo Credo che su rom 1 Non c'era nemmeno Però mi ricordo Che effettivamente Le picche non sono Formate I picchieri Non è formato da 80 uomini Ce ne sono molti di più Per la precisione Nella Nella flange Ma c'è Donè c'erano 256 uomini Se non erro E mi è sempre E mi è sempre Dispiaciuto Un po' Che Lo so Sono piccolezze 256 uomini Per unità Comunque rimangono Sempre tanti Però è un dispiacere Non vedere Così tanti uomini Dentro un'unità Oltretutto Storicamente Accurato Le picche erano così Erano strutturate In questa maniera Quindi È un peccato Comunque Sempre quelle piccole cose Che Se vengono aggiunte Non fanno Né bene Né male Però comunque Vederle Fa sempre piacere Dunque A sua volta Io voglio Dividere Questo reggimento Questi due reggimenti Di Opliti Oplita Forse bisognerebbe Dire oplita Non so bene Oddio Iniziamo a fare Delle manovre Con la cavalleria Vuole andare All'assalto Con La cavalleria Sui miei opliti Una mossa Molto stupida Però effettivamente Io ho gli oplita Quest'oplita Messo In una formazione Pessima E quindi È stata una mossa Tutto sommato Un po' stupida Da parte mia E un po' furba Da parte sua Vediamo un po' Se riescono a tenere Questi opliti Ok adesso Vuole provare Una nuova carica Però L'ho fermata Intanto qui Che cosa vuole fare Il nemico Io lascio Che Tutte le mie unità Si ritirino Non è un grandissimo Problema Però dovrà Scontrarsi Contro Le mie unità Di picchieri Ora Mettiamo subito Le unità In posizione E ora C'è Il nostro Generale Qui in posizione Ok Sembra che Sembra che Con la cavalleria Abbiamo vinto Lo scontro Su un lato Quindi dovrò pensare Ad accerchiare Il nemico Solo che Questa unità Di Nobili Non mi piace Assolutamente Infatti Mi sa che andrò Contro Questa fanteria Nobile Però Abbassate le picche Per piacere Abbassate le picche Abbassate le picche Si Oddio Hanno fatto Una formazione Molto strana Però Su questo Fianco Qui Stiamo vincendo Vuole andare Nel corpo a corpo Con Gli schermagliatori Di leva Non è una Grandissima Cosa Queste picche Qua Se le stanno Prendendo Abbastanza Qui vuole Sta continuando Lo scontro Con la cavalleria Vediamo se Riusciamo Ad acciuffarli No non ci sono riusciti Torniamo Su altra cavalleria E però adesso Vuole attaccare Spalle Sta facendo una buona Tattica al computer Mai viste Cose del genere Fatte dal computer Facciamo un secondo Fiato A queste unità D'altretutto Inspiriamo Queste unità E andiamo A dare una mano Concreta E Un'unità Di oblita Si è Ritirata E anche qui La cavalleria Si è Ritirata Vediamo se Riusciamo Ad attaccare Finalmente Si è girato Il nemico E adesso Adesso lo becchiamo Ok Questa Formazione Troppo Compatta Non ha Ricambiato Bene Il favore Quindi ho perso Un po' di uomini Ne avrei voluti Perdere un po' di meno Però ho fatto Effettivamente Una cosa Un po' stupida Non dovevo Una cavalleria Ho fatto L'errore di tenere Le formazioni Un po' troppo Allargate E effettivamente Non va bene Dovrei fare Un po' Formazioni Un po' Più compatte In questi casi Soprattutto Con la cavalleria Cavalleria Appena Puoi anche Avere Un'unità Più potente Del gioco Però se Tu le tieni In formazione Molto 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 Larga Disposti Su una sola Fila Magari Su due Ce la possono Anche fare Però su una sola Fila La cavalleria Passa dentro Che è una meraviglia E quindi Bisogna Fare un po' Attenzione In ogni caso Sono molto soddisfatto Per i miei Giavellottisti Che hanno fatto Un bel po' Di uccisioni I Giavellottisti È il nemico Però sempre Riescono a fare Più uccisioni E questo non è un bene La cavalleria Nemica Si è comportata Veramente molto bene Solo su un fianco Sull'altro Non tanto E comunque Erano anche Di grado Abbastanza elevato Queste unità Erano di grado Argento Invece Le mie erano Solo Truppe Diciamo Forse questo qua È stato il battesimo Del fuoco Non so nemmeno Forse Hanno già fatto Una battaglia Precedentemente Non lo so Non ne idea Uccidiamo i prigionieri Che non credo Di avere Spazi Per Tenere altri Prigionieri Sempre Continuiamo Lo scontro Qua invece Farò automatizzato Ve lo potete vedere E abbiamo vinto Beh Non c'era tanto Da sperare Cosa facile Molto bene Il terroir di Phobos Arriva a livello 3 Quindi Aumentiamo No Questo qua Non era il battesimo Del fuoco Il terroir di Phobos Forse uno dei miei Primi eserciti Direi di mettere Difensori Difensori formidabili E oltretutto Mettere Il generale Di fortuna No La fortuna Non mi serve Direi di mettere Comandante Di fanteria Molto Molto Bene Ora Torniamo Però prima Dobbiamo fare un paio di cose La The close of Okeanos Che non so chi sia Okeanos Se qualcuno Credo che Beh Da assonanza Mi pare Oceano Però comunque Non so bene Direi di mettere Anche la principessa Di No La principessa La Sacerdotessa Di Nike Della vittoria E oltretutto Direi di mettere Stratega Tanti compagni Di Cerbero Che qui possono aumentare Di grado I generali Direi di mettere Guerriero E molto Bene Ora Torniamo Vediamo un po' Che cosa vuole fare Cartagine Che cosa vuole fare Roma E soprattutto Che cosa vuole fare Il Sannio I Sanniti I Sanniti Sono rimasti con Taranto A quanto pare Non ce la possono fare Effettivamente I Sanniti All'inizio Era un problema Gli Etruschi Rompono il nostro Trattato Di non aggressione Però non so Che cosa vogliono fare I Sanniti Vanno a fare Azioni di razzia Nel loro territorio Gorgo È stata Scoperta Gorgo Se non erro Era anche La regina di Sparta Una regina Di Sparta Non mi ricordo bene Quale Mi ha sempre colpito Il nome Gorgo Che Non è Bruttissimo Come nome Gorgo Sa molto di Lascio stare Non voglio fare Discorsi stupidi Però comunque Non è Un nome così tanto Bello Ecco Ora Io vorrei fare una fontana Invece che Una tannica d'acqua Vorrei anche fare Una libreria Forse Meglio fare una libreria Si facciamo una libreria Che così aumentiamo anche Un po' i guadagni Dalla cultura E aumentiamo anche La ricerca Tecnologica Qui comunque Non riusciamo A tenere Sotto occhio La popolazione Qua è molto difficile Corsica e Sardegna Dovrei mandare Fare qualche tempio Eppure ne ho già fatti Tu riesci a convertire La popolazione No Aumenti solo le tasse Se è inutile Intanto Flotta Vai a controllare Un po' Il mare Come sta Anzi qui Vai a controllare Il mare qui Giusto per controllare Un po' Per fare una Pattuglia Sulle flotte Sulla costa Appunto Ora Devo controllare Un po' Diplomazia Devo Massalia La Silia Dovrei portare Da mia parte Infatti è un'aggressione No non voglio Ah sono alleati Con i romani Vabbè Ora Vediamo un po' Chi c'è D'altro La Libia Ma non vogliono proprio Non è che ho tante opportunità Diplomatiche In zona Emporion Loro sono Alleati con Roma E sono in guerra con Cartagine Effettivamente Non è che io Ho tante possibilità I veneti Possono essere qualcosa Però Sono alleati con i romani Strano eh Molto strano Effettivamente Nella penisola italiana Sono l'unico Che odia i romani Oltre i sanniti Ma i sanniti Odiano tutti Mi dispiace che La lega etrusca Non voglia Proseguire Dei Degli atti Appunto Diplomazia Diplomatici Con me Non vero peccato Ora Proseguiamo sempre Avanti Vediamo un po' Che cosa Vuole fare Cartagine Roma Sono un po' Curiosi I romani Ho conquistato Taranto Finalmente Adesso immagino Che i romani Vogliono Vedere un po' Come la situazione Da me Secondo me Posso aspettarvi Un'invasione Da parte i romani Appena finisce Il trattato Di pace Se non è finito Credo che sia già finito Effettivamente Non mi ricordo Ora Potrei fare Una fontana Sempre qui Così aumenta A quanto pare E sì Quindi se continuiamo A andare avanti Così Potrei Ottenere La cultura Dominante In Un po' Di tempo Comunque Di sicuro In Dieci turni Riuscire Riuscire A arrivare Al 50% Quindi Probabilmente Si va A Posizionare Assieme Alla cultura romana Unica cosa è che la corruzione Che qua Fa tanto male Io cosa stavo ricercando L'economia Dovrei Ricercare un po' Sulla filosofia Che comunque Abbassa La corruzione Non mi ricordo Che cosa abbassa La corruzione Sì La Costituzione Legale Devo Vedere un po' Intanto Tanto cibo E avere tanto cibo È una grande cosa Ovviamente La popolazione Sta crescendo A vista d'occhio E quindi È una grande Grande cosa Ora Campione di Cerbero Abbiamo Un Generale Appunto Un eroe Scherzavo Direi di dare Campione Appunto Che così Il desercito Che accompagna Va un po' Più veloce Intanto A Turi Posso Creare qualcosa L'unica cosa È che non Abbastanza soldi Effettivamente Forse dovrei Interrompere Certe costruzioni Per costruire qualcosa Qualcosa A Turi Perché se non Costruisco qualcosa A Turi Non è che va Un gran che bene Probabilmente Vorrò fare Un query Appunto Delle miniere Delle miniere Vanno più che bene E ok Probabilmente Per il prossimo Turno No no Già adesso No Il prossimo Turno Vorrò Puntare Su La fontana Dentro Siracusa Turniamo Torniamo ancora Intanto Già che devo Posizionare la flotta Lo faccio Il prossimo Turno Intanto Vediamo un po' Che cosa vogliono Fare le altre azioni Adesso devo stare In una situazione Abbastanza calma Devo controllare Tutta la mia economia Devo stabilizzare Il mio regno Pacificare Le regioni Appena conquistate E oltretutto Devo anche Creare un esercito Più potente Perché Adesso i romani Saranno Incazzatissimi Oltretutto Adesso si è creato Un fronte Praticamente Qui in Calabria Quindi Probabilmente Dovrò Combattere Tutta questa zona Qui E oltretutto Devo anche Pianificare Un buon assalto Perché siccome Io esco Praticamente Qui dalla Calabria Ho solo una città Su tre Da prendere Devo scegliere Se ho solo Un esercito Quindi metti caso Se Tacobox Centum Possono cerchiarmi Da Taranto O andare Definitivamente A Turi Quindi potrei Anche fare Un'occasione Potrei creare Anche un'occasione Con la flotta E magari Porre da assedio Sotto blocco navale Tarentum E come un esercito E ottenerla Lì sott'occhio Senza fare un assedio A lungo termine Però comunque Possono sempre Attaccarmi Da Bari O da Sipontum E effettivamente Lì è un altro problema Però comunque Dovrò avanzare A Box Centinum E poi se avanzo A Box Centinum Devo aspettare Un attacco Da Beneventum Dovrebbe essere Un'invasione Molto difficile Quella dell'Italia Intanto Direi che Questo qua Non ci può servire E in ogni caso Aumentiamo Creiamo le nostre fontane Finalmente E facciamo Un villaggio ellenico Alili Baenum Ok Ora possiamo Andare avanti Di tecnologia Direi di fare Un po' Di Appunto Filosofia Che ci serve Non l'ho selezionata Scusate Eccola qui Il documento In tezzo In legale Va più che bene Ora Qui con la nostra flotta Mettiamoci a Pattugliare Che così Almeno Riduciamo la pirateria Guardiamo attimo Un po' Di liste Ora Noi qui guadagniamo Un bel po' Dagli schiavi Però fammi controllare Lì avevo un malus Per gli schiavi Immagino No per le tasse Perché Perché un po' Mi odiano Forse Sì Più che altro Tutto quanto Dipende dalle differenze Culturali E dalla schiavitù Effettivamente Dovrei fare un po' Attenzione alla schiavitù Che non è tanto amata Qui Stiamo andando Molto bene Perdiamo tanto La corruzione Guadagniamo un po' Dagli schiavi Però Gli schiavi Sono una grande Fonte di reddito Anche se Anche se Comunque Provocano Grande disordine Pubblico Oltretutto Oltretutto Qui la cultura Sta avanzando Lentamente Però Ormai è dominante Non è un Grande problema Per me E oltretutto Qui Finanze Potrei anche un po' Abbassare Se voglio Che così Non è che aumenta Comunque Se abbasso Volevo abbassare Per rendere La crescita della popolazione Un po' più rapida Però effettivamente Non cambia nulla Quindi Chi me lo fa fare Nessuno Allora Tengo così Le tasse Non si abbassano Ora Faccio sempre Pattuglia Navale In zona Che così I pirati Se ne vanno Un po' E oltretutto Gorgo Ha bisogno Di essere promossa Faccio agente Cosa che faccio spesso E oltretutto Torniamo Io sto aspettando Qualche vento esterno Che capiti Io non capisco Perché però Le navi Nel mediterraneo Passano E si danneggiano Cioè Lo so Ha senso Effettivamente Passare in mezzo Al mediterraneo Non è così tanto piacevole Però comunque Perché il computer Lo fa Perché è così stupido Perché stiamo Cercando la rob2 E molti di voi Diranno Sì Però comunque Non è che vanno Gran che bene Potrebbero risolvere Questo problema Perché effettivamente Vedi l'unità Tutte decise Che poi dopo Si bloccano in nulla Ora Qui Posso Puntare su Sulla Guerriglia E effettivamente I soldi Iniziano ad entrare Anche un po' più In massa E possiamo fare Delle Delle caserme Per gli opliti Tanto qui a Cagliari Sta andando Tutto molto bene La popolazione Unmenta Vista d'occhio Anche qui E c'è qui Stiamo arrivando A livello 2 Di popolazione Una volta arrivati A livello 4 Posso fare Un nuovo edificio A Lili Baenum E arrivati A livello 7 Poi dopo Potrò fare Un nuovo edificio A Siracusa Si Sto gestendo Abbastanza bene La mia città E mi piace Comunque Qui non va tanto bene Perché voi Siete tristi Tutto provocato Dall'ordine pubblico Quanto pare Finirà tra un turno Però la Inistabilità Della provincia E resta provocato Da Dalle tasse Dagli schiavi Però la Inistabilità Della provincia Finirà tra poco Quindi dovrebbe Di nuovo Riaumentare Il valore Del Appunto Dell'ordine pubblico E tutto quanto Tanto vediamo i romani Che vanno avanti e indietro Molto Gai Fighi Romani Appunto Tanto non so dove si è perso Annibale Probabilmente si è perso In Spagna Gorgo aumenta di grado A vista d'occhio Tanto qui possiamo Citare I disordini Con lei E morale Per Le unità Va a dire di mandarlo Alla lista Tanto qui Aumenta la popolazione Un po' Si Dovrei anche fare Qualcosa Però effettivamente Se aumento Non so Qua posso fare Delle Mini Intrincea Non so come chiamarle Si posso farle Aumenta il costo Di reclutamento Delle truppe Nella Nella zona Aspetta Nella zona Oppure Ovunque Non lo specifica Credo Nella zona Si si E' un grandissimo Piacere Però Vorrei sapere Se aumenta Il costo Ovunque O solo Nella zona Non si sa Dove Assolutamente Non si Sa Dove Vabbè Allora aumentiamo Credo Nella zona Però Quindi Non dovrebbe Essere Un grandissimo Problema I soldi Comunque Entrano Sempre Ogni Turno In più E quindi Sono molto Molto Soddisfatto Di questo Il mio Impero Sta generando Un po' Di soldi A differenza Delle altre campagne Con Atene Adesso sto Facendo Assicurata Produzione Tanto hanno fatto Un grande incendio A Messana E hanno Brociacchiato Un po' Tutto Mannaggia Quindi ho dovuto Spendere un bel po' Di soldi Qui Tanto qui Direi Di fare Stimolazione Commerciale Perché forse Panet Circenza Non mi serve più Quindi Stimolo Commerciale Va bene Intanto abbiamo finito La Fontana La mia grande Opera pubblica E ora Stiamo un po' Così Direi che per questa puntata È tutto Votate Commentate Ci sentiremo Alla prossima gente Da Laro è tutto Ciao Ciao